Gli offre un passaggio ma viene pestato e rapinato dei soldi, dei cellulari e dell'auto. L'autore, Tariq Gowati, 32enne marocchino, è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri dopo una notte di estenuanti ricerche in tutta la provincia. Tutta inizia ieri sera, primo dell'anno, quando un pensionato 65enne del Basso Salento incrocia in una stazione di servizio di Lecce, il marocchino, che gli chiede se stesse andando verso San Cesario. Il 65enne lo lascia salire in auto non sapendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Giunti nei pressi dell'Aligros, infatti, il marocchino lo ha iniziato a colpire con calci e pugni, anche con delle pietre, lasciandolo sanguinante per terra dopo avergli rubato i contanti, i cellulari e la Fiat Panda. La vittima, pur sotto shock, è riuscita ad alzarsi in piedi e a fermare un'automobilista di passaggio chiedendo aiuto al 118 e ai carabinieri e così è partita la caccia all'uomo. I carabinieri, dopo ore di ricerche e diramate in tutta la provincia, sono riusciti a rintracciare l'auto nei pressi di un'area di servizio di Torre Suda. Lì gli aveva condotto il segnale dei cellulari del 65enne che il marocchino aveva lasciato in auto. I militari del norme di Casarano hanno poi controllato un bar della zona all'interno del quale hanno trovato il nord africano la cui descrizione era compatibile con quella del ricercato. Così il marocchino è stato fermato ed accompagnato presso la stazione dei carabinieri di San Cesario dove la vittima della rapina, nel frattempo dimessa dal pronto soccorso, lo ha riconosciuto. Per Gowati è così scattato l'arresto in flagranza per rapina aggravata dal violento pestaggio. Il 65enne, giudicato guaribile in 30 giorni, ha riportato ferite al volto e la frattura delle costole.